Musica Buona serata a tutti voi, ben ritrovati per l'appuntamento con un'informazione dalla Lombardia di One TV News. I giorni scorsi una pattuglia della polizia locale ha intercettato sul territorio comunale di Castano I un veicolo sospetto a bordo del quale viaggiava una coppia di persone specializzate nel derubare gli anziani nei negozi. I due, un uomo e una donna di nazionalità cubana, pregiudicati e irregolari sul territorio italiano, sono stati identificati tramite rilievi fotodatiloscopici al comando di Via Mazzini e tramite militari del comando castanese nuovamente foto segnalati presso la caserma dei carabinieri di Legnano. All'uomo è stata anche combinata una sanzione amministrativa da 5.100 euro perché è sorpreso la guida dell'auto intestata da una terza persona e successivamente sequestrata in attesa di confisca senza aver mai conseguito la patente di guida italiana. E restiamo a Castano perché lungo la stradina che porta alla Madonna di Gray sono stati ritrovati diversi serramenti abbandonati. Non è che l'ennesimo gesto incivile segnalato nella zona dei residenti. Sul posto per One TV News c'era Alessio Bellelli. Vediamo. Quando l'inciviltà purtroppo regna sovrano. Eccoci per esempio sulla stradina che porta al santuario della Madonna di Gray. Perché questo è lo scempio che si sono trovati davanti cittadini e passanti, porte e finestre serramenti abbandonati. Un gesto che si spera venga presto punito e soprattutto che i colpevoli o il colpevole vengano rintracciati e appunto sanzionati. Ma come ci hanno detto alcuni cittadini e alcuni passanti, questa non è l'unica situazione. Perché purtroppo anche i boschi qui attorno sono costellati di rifiuti e di materiale abbandonato. Allora, alle 6 e un quarto non c'era niente. Sono andato a casa delle barche. Sono tornato, un mio amico con l'altro cane mi diceva, hai visto cosa hanno buttato? Praticamente nell'arco delle 7. Ecco, ma poi voi l'avete segnalato, cosa è successo poi? Ho chiamato l'ente parco, abbiamo chiamato i vigili, proprio di chiamarli. Ma voi che girate qua al territorio, è la prima volta che succede o altre volte? Qua è la prima volta, invece oltrepassando la strada scaricano, se vuoi andare a vedere. Quindi rifiuti abbandonati un po' dappertutto? Un po' dappertutto. Il Comune di Legnano e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sottoscritto oggi un protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. L'accordo, firmato dal sindaco Lorenzo Ladice e dalla comandante provinciale delle Fiamme Gialle, il generale di Brigata Francesco Mazzotta, ha lo scopo di instaurare una collaborazione reciproca per garantire che le risorse economiche stanziate per la città di Legnano vengano utilizzate in modo lecito, ovvero esclusivamente per gli interventi previsti dalle emissioni del PNRR. Nei prossimi tre anni l'amministrazione comunale si è quindi impegnata a fornire alla Guardia di Finanza input informativi qualificati su eventuali irregolarità di cui venisse a conoscenza in qualità di soggetto attuatore dei progetti e a mettere a disposizione dei finanziari dati ed informazioni utili a prevenire o reprimere ogni condotta illecita, lesiva dell'interesse pubblico. Regione Lombardia è stata la prima regione d'Italia a credere nella certificazione di parità di genere in azienda, come dimostrano i 10 milioni di euro investiti con un bando specifico. Lo ha ricordato l'assessore regionale all'istruzione, informazione e lavoro, Simona Tironi, a margine del convegno in azienda la parità di genere fa la differenza. Regione Lombardia è stata la prima regione d'Italia a credere nella certificazione della parità di genere, lo abbiamo fatto in modo molto concreto investendo qualcosa come 10 milioni di euro proprio per aiutare e supportare anche dal punto di vista economico le aziende a credere e a scegliere la certificazione della parità di genere. L'appuntamento di oggi è un appuntamento riassuntivo di 11 incontri sul territorio. Siamo stati ospiti delle nostre Camere di Commercio che ringrazio. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare più di 800 aziende per spiegare non solo l'importanza della parità di genere ma quale valore aggiunto la parità di genere porta all'interno delle aziende proprio nel contesto lavorativo. Noi continueremo a crederci. Tutte le misure che come assessore al lavoro e alla formazione noi svilupperemo, avremo un occhio di riguardo degli incentivi proprio destinati al mondo del lavoro femminile e quindi questa è la più alta testimonianza che noi sulla parità di genere ci crediamo molto. Allora fa sicuramente la differenza trattando i lavoratori alla pari, che siano uomini o che siano donne, partendo dalla parità retributiva. Questa mattina ci siamo trovate con l'assessore Tironi proprio per parlare che appunto è il bando di Regione Lombardia che ha stanziato 10 milioni di euro netti per aiutare e sostenere le aziende piccole e medie per avviarsi al percorso della certificazione parità di genere. Risultati molto importanti. La consigliera di parità che si occupa di contrastare le discriminazioni sulla parità di genere ma anche di inserimento delle donne nel mercato del lavoro farà la propria parte. La certificazione di genere è uno strumento che è stato messo a disposizione dal governo, un progetto del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per portare le imprese appunto a certificarsi. In particolare poi ci sono state delle iniziative che a livello regionale e le singole regioni hanno messo invece in campo risorse proprio per accompagnare le imprese in questo percorso di certificazione. Quindi accanto al sistema nazionale ci sono i sistemi regionali. La Regione Lombardia è stata la prima ad introdurre questo meccanismo di premialità per le imprese che si certificheranno. Ci sono dei parametri, parametri che debbano essere rispettati dalle imprese e però non è soltanto un bollino per ottenere la certificazione ma è un percorso, un percorso che l'azienda inizia diciamo così rispettando e mettendo in campo comportamenti equi, comportamenti inclusivi, comportamenti che come si diceva la parità salariale, ma non solo, welfare e tutta un'altra serie di iniziative che devono essere la base per l'avvio di questo percorso e che poi dovrà essere completato. E quindi è un percorso che deve essere serio e deve essere anche consapevole. Presentata oggi a Palazzo Pirelli la cinquantesima edizione della camminata manzoniana che si svolgerà il primo ottobre a Lecco nell'ambito delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni. Alla conferenza stampa hanno partecipato tra gli altri l'assessore regionale Francesca Caruso, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, il consigliere Giacomo Zamperini e il vice sindaco di Lecco Simona Piazza. Faccio i complimenti all'organizzatore, al comune di Lecco, alla provincia, all'ETM, al consigliere Zamperini, insomma a tutti quelli che si sono adoperati per questo importante evento che, come è stato detto, unisce lo sport, unisce la cultura, unisce il turismo, unisce l'arte e unisce anche l'aspetto sociale perché è ricavato, andrà totalmente a Teleton. È un bellissimo esempio di come, appunto, anche di accessibilità alla cultura, quindi in occasione dei 150 anni del più grande scrittore, insomma, lombardo, ma europeo e mondiale, questa camminata, diciamo, porta un turismo culturale e porta anche a visionare i posti della cultura, i luoghi che sono stati raccontati e sono stati vissuti dal grande scrittore. Lecco è una città che ospita da 50 anni, appunto, la camminata manzoniana e quest'anno, nel 150esimo anniversario di Alessandro Manzoni, che per il nostro territorio ha rappresentato tantissimo e continua a rappresentare ancora molto, abbiamo voluto sostenere, non soltanto con il patrocinio, ma anche con un contributo da parte di Regione Lombardia, un'iniziativa che vuole mettere insieme sport, comunità e, appunto, cultura. Noi vogliamo rappresentare una città accogliente, una città che sa fare festa, una città che sa anche ricordare i propri punti di riferimento. E Manzoni, con i suoi promessi sposi, certamente è uno di questi. Un altro gioiello dell'aeronautica militare che torna a rivivere a Volandia. Taglio del nastro per la riproduzione in scala 1 a 1 dell'idrovolante S55X, utilizzato da Italo Balbo nella celebre crociera del 1933, in cui guidò una formazione di 24 velivoli da Orbetello a Chicago per partecipare all'Expo A Century of Progress, in occasione del centenario della fondazione della città dell'Illinois. Storia, tradizione e orgoglio, nelle parole del generale dell'aeronautica militare Basilio Di Martino. Un gioiellino dell'aeronautica che torna a rivivere qui a Volandia, l'S55. Generale, che cosa vuol dire rivivere questo aereo? Vuol dire riscoprire un pezzo di storia, vuol dire riportarlo alla vita, vuol dire dare concretezza a quei sentimenti di forte identità, identità nazionale, spirito di squadra, passione, sacrificio, che hanno animato gli uomini che li hanno portato in volo nella stagione delle crociere e dei primati. E per noi vuol dire avere un forte richiamo alle nostre origini, nel senso di quella spinta verso il futuro, di cui all'epoca l'S55 è un simbolo, che anima l'aeronautica militare. Ecco, come aeronautica militare che cosa ha significato questo aereo per voi? Beh, il fatto stesso che lo abbiamo scelto come logo per il nostro museo, vuol dire che lo riteniamo una macchina centrale nella nostra storia. Perché, ripeto, c'è tutto in questa macchina. C'è la tecnologia, all'epoca era una tecnologia d'avanguardia, c'è il senso di squadra, la formazione e l'equipaggio, c'è l'identità, la forte volontà di rappresentare i colori dell'Italia in giro per il mondo e c'è la passione. La stessa passione che ha animato chi l'ha realizzato e ai quali va il grazie della Forza Armata. In parte, vabbè, ha già risposto alla domanda che volevo farle. Se ce lo dovesse descrivere, lo dovesse descrivere come lo descriverebbe? Beh, è una macchina per l'epoca senz'altro innovativa. La massima espressione della tecnologia di un certo tipo di costruzioni, le costruzioni a traliccio, che all'epoca erano all'avanguardia. Ed è anche, dal punto di vista aerodinamico, la sua eccezionalità è la testimonianza di un altro genio italiano, quello dell'ingegnere Alessandro Marchetti. L'aeronautica dimostra ancora una volta di essere vicina alla gente. Sicuramente sì, ma non solo oggi. Le celebrazioni del nostro centenario vogliono dire alla gente questa è la tua aeronautica, noi esistiamo per te, noi vogliamo farci conoscere da te. Noi non abbiamo bisogno del centenario per conoscerci, lo sappiamo chi siamo, ma vogliamo dire grazie al popolo italiano per il quale abbiamo lavorato e servito per questi cento anni. Cento anni di aeronautica, un traguardo importantissimo. Qual è l'orgoglio di aver raggiunto un simile traguardo? L'orgoglio c'è, aver compiuto cento anni di storia proiettandosi in modo da essere oggi una delle forze armate più rilevanti in Europa e probabilmente al mondo, ma non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Il logo stesso del centenario lega due velivoli, uno del passato e uno del presente, con una linea inclinata che guarda al futuro, guarda al futuro e verso l'alto, perché il nostro futuro è anche oltre la dimensione dell'atmosfera, nello spazio. A Palazzo Lombardia è stata presentata anche l'edizione 2023 della festa del Torrone, che si terrà a Cremona dall'11 al 19 di novembre per nove giorni. In programma degustazioni, show cooking, premiazioni e appuntamenti vari all'insegna della cultura e alla scoperta del dolce di Natale per eccellenza. Alla conferenza stampa di presentazione, oltre ad Tilio Fontana, sono intervenuti anche l'assessore al turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali, ed altri volti istituzionali. Vediamo. È una manifestazione unica, è una manifestazione che attira una quantità di persone incredibili, è una manifestazione che oltretutto contribuisce a creare un veicolo ulteriore per promuovere il territorio. Un grande evento che tra l'altro ha come, diciamo così, principe della tre giorni, un prodotto enogastronomico di grande eccellenza che è il famosissimo Torrone, un'edizione, quella dell'anno scorso, che ci ha riportato 300.000 presenze, quindi un grandissimo successo. Una serie di eventi durante questi tre giorni che così costruiranno un storytelling di tutta quella che Cremona comunque rappresenta in termini enogastronomici, in termini anche di outdoor, quindi insomma un bellissimo tre giorni, ma soprattutto dedicato alle famiglie. Ci saranno delle revocazioni storiche, ci sarà un passaggio anche, non dimentichiamoci che Cremona è la città del violino, degli utai, quindi una grande storia anche questa, non solo da visitare, ma da raccontare e da vivere, un'esperienza incredibile. Abbiamo inaugurato pochi mesi fa il museo, quindi veramente sarà un momento molto dolce e piacevole. Ed è tutto per questa edizione, ma prima di salutarvi voglio annunciarvi che questa sera, a partire dalle 20, in diretta sul canale 79 delle digitali terrestre, andrà in onda Monza, il magazine settimanale dedicato all'avventura del Monza Calcio nella massima serie di campionato di Serie A. E per quanto mi riguarda invece ci troviamo domani sera nuovamente qui su questo canale e alla stessa ora per un nuovo appuntamento con l'informazione locale. Buona serata a tutti voi e buon proseguimento dei programmi su One TV. Grazie a tutti.